Iran testato con successo il nuovo supermissile. Corea del Nord terremoto in zona test nucleari. Stasera il derby della Mole la Juve sfida il Torino. L'Iran ha testato con successo un nuovo missile balistico che era stato mostrato ieri per la prima volta nel corso di una parata militare a Teheran. Nel corso della cerimonia il presidente Rouhani aveva annunciato l'intenzione dell'Iran di rafforzare le sue capacità militari. Il test appare come una sfida al presidente Trump che ha rimesso in discussione l'accordo sul nucleare con Teheran. Intanto un terremoto di magnitudo 3.4 della scala Richter è stato registrato in Corea del Nord. Lo hanno riferito stamani i media cinesi. L'epicentro sarebbe stato rilevato nella stessa zona in cui il 3 settembre scorso è stato condotto un test nucleare. Secondo il servizio meteorologico coreano si tratterebbe però di un evento naturale non ricollegabile ai test balistici. Derby della Mole a Torino. I bianconeri di Allegri sfidano i Granata di Mijailovic all'Allianz Stadium. E anche la sfida tra gli astri nascenti di Bala e Belotti. La Juve spera così di mantenere il primo posto in classifica. Il Toro prova ad entrare di diritto tra le grandi del campionato. Alle 15 e alle 18 gli altri due anticipi della sesta giornata. La Roma in casa contro l'Udinese mentre il Napoli affronta la neopromossa Spal. Oggi col sole, domani con l'ombrello. Cambio di meteo questo weekend. Tra oggi e domani le previsioni vedono 24 ore di tempo piuttosto soleggiato e 24 di pioggia sull'Italia a tratti anche molto forte. Secondo il Meteo.it la depressione peggiorativa interesserà soprattutto il versante orientale e le regioni meridionali. E questa era la nostra ultima notizia. Se volete degli aggiornamenti collegatevi con il sito www.adncronos.com Arrivederci